un saluto a tutti cari amici di youtube questo è il mio primo video del 2023 e adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea drusilla fur meglio conosciuta come drusilla andiamo a capire chi è questo personaggio misterioso dicendo prima quello che non è non è un travestito non è una drag queen e non è neanche una trans assolutamente no la colpa è anche dei telegiornali che dicono un fatto per un altro quando era la prima volta che la vidi in televisione al canale al programma sanremo dell'anno scorso condotto assieme ad amateus adesso andiamo a capire innanzitutto chi è questa nobile donna fiorentina dice che è nata a siena il 9 settembre del 1967 è una subretta è una stilista attrice teatrale ma anche attrice di film di cui è stata anche in due film tra cui magnifica presenza di ferzan ospetek nel 2012 nel ruolo di ennio e c'è stata anche in un altro film venere nemica però noi oltre al fatto dell'almanacco del giorno dopo che ogni giorno alle 20 su rai 2 lo conduce ricordiamo oltre al fatto anche di sanremo che è stata anche nel ruolo di di se stessa soltanto che la si chiamava drusilla gori dopo andremo a capire perché il show must go off condotto da serena dandini è stato anche nel canale nel programma di piero chiambretti a rc4 repubblica delle donne questo è quello che si sa riguardante drusilla però poi nel personaggio di drusilla sappiamo che un personaggio nato a siena abbiamo già detto la data il suo nome deriva proprio dal traghetto di cui c'erano i nonni paterni che la hanno fatto l'amore poi è nato il padre di drusilla che poi diede questo nome il nome del battello a sua figlia cioè a questa signora qui che non è una signora dopo andremo a capire chi è è nata sia sia abbiamo detto però è stato nella maggior parte nella sua vita tra cuba new york olanda e anche in gran parte degli stati uniti d'america la prima volta in texas si è sposata con un terribile texano che subito dopo hanno divorziato perché non lo sopportava proprio e si era poi sposato con un con un nobile olandese andiamo a capire chi era questo nobile herve for del belcio dell'olanda della famiglia du fur soltanto che morì pochi giorni dopo il matrimonio lasciando la vedova lei ha anche un fratello gerardo e due sorelle che sono morte di un incidente stradale e quindi non si sa più di loro e anche due nipoti tra cui ginevra e giacomo ha vissuto gran parte del mondo viaggiato in gran parte del mondo e poi è ritornata in italia e sappiamo anche la verità che in realtà drusilla è un personaggio immaginario creato da un attore teatrale fiorentino che si chiama gianluca gori per questo motivo nel canale the show must go off si faceva chiamare drusilla gori con il cognome dell'uomo che l'ha veramente rappresentata dice che non ha nessun rapporto con il signor gori gianluca gori però poi ha detto che ognuno dà spazio a se stesso infatti drusilla e drusilla gianluca gori e gianluca gori e anche se nello stesso corpo ha detto che ognuno lascia spazio a se stesso questo è tutto quello che si sa su drusilla quello che poi ho voluto aggiungere quando sono andato a sapere della sua storia perché delle voci me lo hanno detto sono andato a capire che ad un altro personaggio fittizio di qualche anno fa science and john facendo vedere spesso su youtube ne parlavano molti quando era di moda la parte strana di youtube di cui era uno dei personaggi principali della parte strana di youtube di cui ne ho parlato molto spesso nei miei video quando ancora ero gran mitico quando ancora indossavo quella bellissima maschera che mi ha lanciato purtroppo non la trovo più e non riesco più a fare video con la maschera da quando sono arrivato a mille iscritti che ho dovuto togliermela per una scommessa poi devo dire anche un altro fatto stai provando sempre di science and john era una fotomodella americana che dopo un incidente sul treno schiandandosi su un treno andandosi contro un treno si è sfigurata perdendo le braccia e le gambe e invece di farsi delle operazioni ha sostituito parte del suo corpo con dei manichini e indossa sempre la maschera perché come dice il suo creatore è veramente brutta e non vuol farsi vedere fa spesso dei video surreali su youtube di cui sono andato a conoscerla il suo video originale era su youtube elastic plastic no elastic plastic plastic fantastic dal 30 agosto 2006 di cui ci sono 56 video che poi è diventata famosa nel 2006 e 2007 ma purtroppo il suo canale è stato cancellato prima ha bloccato e poi cancellato il 22 dicembre 2017 andiamo a capire la verità anche sul personaggio science and john di cui su youtube pubblicizzano anche il suo bellissimo sito c'è un sito un blog su youtube live journal però scrivendo proprio sai e saint john vi trovate anche sul sito principale di questo personaggio e vi trovate in una serie di video particolari surreali come piacciono a me e tante immagini psichedeliche proprio come piacciono a me ora la realtà dei fatti sa che sai e saint john così come trusilla fur era un personaggio del tutto immaginario creato da eric fournier che è un regista un artista che ha creato questo personaggio ben riuscito di cui ci sono stati diversi creepypasta che parlavano sempre del fatto che dopo l'incidente schiandandosi contro un treno indossava sempre parti di manichino perché oltre a essere sfigurata fisicamente ha avuto anche dei problemi mentali e continuo a fare questi video che ogni tanto la vediamo sulla sedia a rotelle ogni tanto la vediamo in piedi ogni tanto vediamo che si smonta poi si rimonda e poi fa dei gesti strani con quelle mani a bacchetta di legno che vediamo ma vediamo anche con un volto mascherato con la figura di qua che muove la parte di sotto che in realtà era eric fournier dopo la morte di eric fournier un altro uomo ha preso il suo volto Larry Wessel di cui io ho conosciuto soltanto a distanza perché gli ho chiesto l'amicizia su facebook tempo fa siccome era attratto da questo personaggio dato che in molti dei miei video di cui parlavo con la maschera ho parlato di lui Larry Wessel ha oltre a interpretare Saint John ottobre del 2016 ha scritto anche ha fatto anche un film un lungometraggio eric and say di cui parlava della vita sia dell'uno che dell'altro si è autoconsidera la migliore amica di Tina Turner che la conobbe quando andò a New York e ricordiamo anche che una dei tanti personaggi dello spettacolo che si travestono da donna per fare spettacolo sono Platinet alias Mauro Coruzzi e anche la signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini Water Salad è un altro suo film sembra di Saint John di cui parla di questo personaggio bene amici ora ho finito di parlare sia di Drusilla che di Saint John facendo questo paragone ora io vi saluto bene amici con questo è tutto un abbraccio immenso dal gran mitico grazie a tutti